Grande vittoria dei Blue Tiger contro gli Atleticos Faticao. Ricordiamo il punteggio che loro perdevano per 3-0, poi hanno rimontato e hanno sforato molto nel punteggio. Cosa parla il capitano Fabrizio Nassasi, autore di un grande gol? Ci voleva questa vittoria finalmente, dopo tante giornate. Finalmente altri tre punti e ci portiamo a sei punti. Speriamo di qualificarci almeno per gli ottavi, perché questa tornella sta andando un po' male. Una puttana! Vabbè, comunque dopo questa vittoria che fa molto morale, sicuramente ci saranno prestazioni, speriamo, migliori. Sicuramente passeremo perché ci sono quelle due squadre là sotto che fanno a casa nostra. Vabbè, quindi comunque un grande bocca al lupo per il proseguimento del torneo. Ma ci affanno. E auguri.